Siamo nella casa spettacolare della famiglia Autolini, qui c'è la signora, c'è il nostro parcheggiatore, poi c'è la bimba, c'è anche la babysitter della bimba, c'è la mamma della bimba, c'è la signora, la boss, poi c'è, uè amici, uè giovane, la signora si vergogna, perché vedi le sigarette contrapatte, perché io sono delle iene, delle iene, ecco un altro, sono delle iene io, perché lei fa queste cose? Di Daniele, il signore è molto serio che dice si, 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 si.. Allora signora, perché lei vuole poterloward le cose contrapatte su internet? Truppa e le persone anziane perché? È la cugina di Van Lamarnemey, non so è specchio... Se vuoi quelli delle iene, uno deve giurlo... Lei è il signore che vede il vino? Emiliano, l'assetta di mano che convalida l'appare fatto con Cosa Nostra. Sto scherzando? Direttamente nella casa spettacolare della signora, come vi chiamate signora? Beatrice. La signora Beatrice, stiamo preparando la sorpresa alla Linda, il cameraman number one, sono io ragazzi, ecco il mio pubblico che fa. Ciao! Ecco, ecco. Luce? Luce? Andi, andi. Ciao! Ancora, non è lei, ragazzi. La lisa con la luce è spettacolare, ma è spettacolare. No, no, non è lei, non è lei. Un'intervista speciale alla Linda, direttamente dagli Stati Uniti d'America, eccola qua. Uè, mitico, ci hai fatto attendere mezz'ora. Uè, veloce, 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 con i saluti che so' 13 minuti di batteria, dai. Ciao! Non sapevo che l'ho arrivato. Stavolta è riuscita bene, non lo sapevo. Uè, mi ascolta. Mi ho fatto necroni, amari, di tutto qua. Ti abbiamo detto, sono ubriachi. Non posso, non posso, sono benissima oggi. Ciao, la giornata è qui. E non dico che non dico che sono abituato. Cioè, ci hai lasciato 5 euro di bevuto, eh, perché l'avola luce, eh. Ci ho lasciato tutto. Ciao, te. Grazie. Ciao, Kiki. Ciao. Salutata. Poi lo mettiamo su... Hai capito? Vuh, vuh, vuh. Ciao. Ciao. Uè, filmate qua, va, liberatoria, eh. Non è andata bene. Oh, la sapete, sono zinissi. Scusami. Dovete tutti a zia, a zia, a zia. Non sapevo di portare tutto. Ciao. Ciao. Ciao Simona Vabbè Un mattino Ciao Ti credo Ciao Ciao Simona Auguri Grazie Anche il mio compleanno Ok Ciao Ciao Ah, è arancio, bravo, no, è arancio. Eh, lo so, me la nemmeno, mi hanno fatto tutti di te. Sì, eh. Eh? 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 Eh, no, perché la batteria è quasi terminata. Che palla, signora, bella, eh? Ok.